Questa proposta di legge riguarda le ordinanze di protezione civile. Come molti sapanno le ordinanze di protezione civile vanno a regolare i problemi durante le emergenze. Purtroppo questo strumento è stato abusato nel passato, ricordiamo Berlusconi per i mondiali di nuoto per l'emergenza dell'Aquila. La proposta di legge si propone principalmente risolvere due problemi. Il primo è rendere accessibili e consultabili online tramite un database elettronico all'interno del sito della normativa tutte le ordinanze di protezione civile. Il secondo è rendere trasparenti e verificabili tutte le emergenze che si sono avute in Italia per controllare che la spesa non vada oltre l'emergenza. Aspetto vostri contributi tramite il portale Lex per eventualmente migliorare questa proposta di legge. Grazie. Grazie a tutti.